ciao a tutti sono federica e bentornati sul mio canale oggi iniziamo un gioco che avevo già annunciato ovvero jurassic park the game è un gioco sempre da rattle tale però come avevo già detto se il t-rex mi fa parlare non sarà un gioco a scelte ma bensì sarà un gioco incentrato tutto sui quick time io l'ho già giocato però ci tenevo particolarmente a farlo uscire sul mio canale allora possiamo iniziare si sovrascrivi tutto tra l'altro non c'è modo di impostare la difficoltà e in alcuni momenti è veramente veramente difficile azzeccare i quick time quindi li sbaglierò per la maggior parte del tempo chiedo scusa perché sono particolarmente raffreddata però per non farvi mancare il video oggi siamo qua a registrare dunque 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 guardiamo dietro aiuto c'è qualcuno che ci rincorre cosa cosa ho sul braccio una ferita in questo caso non sono zombie quindi non mi trasformerò in niente di particolare cos'è una bomboletta spray wow 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 questi rumori non mi piacciono che problemi c'è usa l'analogico sinistro per esplorare l'ambiente tipo lì cosa c'è quelli mi vogliono uccidere ecco vedete il cavolo di quick time che non riuscirò mai ad azzeccare oh oh adesso sembrano facile ma poi più avanti la cosa si complica oh oh che cos'era no no non ti fermare vai 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 muoviti levati no non di qua prova dall'altra parte no ok voliamo allora dietro no vai vai però ecco vai vai ma quanti sono maledetti no mannaggia ecco questo me lo sono persa speriamo di non morire no sono caduta ok niente da fare però siamo vive io invece la prima volta che ho giocato non ne ho azzeccato neanche uno a parte che era la prima volta che utilizzavo il controller dell'xbox quindi ero oddio cosa su che tasti sono tipo queste cose io le odio continuare a schiacciare perché adesso sono semplici ma poi ti parte il dito e ti fa male per giorni e forse dopo essere morta una decina di volte riesci a superare la scena ed eccolo qua episodio 1 l'intrusa dovrebbero essere quattro se lo ricordo male gli episodi si lascondono non si fanno vedere secondo me li ha rubati però ok ok allora io come al solito parto sempre sulla sinistra un cosino per zoomare meravigliosi attenzione qui c'è un dinosauro guardalo è andata sulla destra però c'erano delle cose a sinistra che volevo controllare tipo qua vedi ah erano triceratopi avrei detto dei brontosauri o bracchiosauri ah ah va bene adesso vado di là voglio controllare tutto però siamo tutti più sicuri sì così i carnivori mangiano gli erbivori proprio logica questa cosa sì sì come no qui ancora impronte si è fatto una doccia abbiamo capito che tua madre non ti vuole in giro cos'è quello no una roccia qua c'è un cespuglio che si muove no maledetti uccellacci qui altre impronte eccoli qua forse riusciamo a trovarli questa? una macchina e sappiamo tutti di chi stanno parlando ovviamente per chi ha visto il film ma penso quasi tutti perché comunque è famosissimo è uno dei miei film preferiti quindi questi maledetti dinosauri questa? a me sembrano delle uova comunque anche se come ha detto lui sono femmine e quindi non possono procreare questo però è un dinosauro lì dietro dai eccolo che carini non penso però il famoso tricerato pomalato ci sono un sacco di riferimenti al film e man mano che andiamo avanti vi dico le varie cose per non spoilerare adesso finiamo di dire cagate e andiamo avanti di che battello starà parlando è la ragazza del prologo non mi interessa ecco fattacci su dunque cosa abbiamo qua da vedere questo questo la bomboletta la famosa bomboletta sì sì c'è proprio schiuma da barba dentro allora RT possiamo aprire i dialoghi e scegliere di cosa discutere però aspetta un attimo perché giù qua c'era qualcos'altro allora tempesta sì sta per salpare ma come fate a organizzare queste missioni senza avere tutti gli oggetti necessari ma siete degli idioti allora vediamo qua osprey consegna è pronta ok con LT ecco possiamo cambiare il luogo così a caso chiamiamolo a caso allora sopra c'è qualcosa vai guarda su ok siamo venuti per una missione non ce ne andiamo via così facilmente chi è il tuo pappagallo Marie Kitta andiamo dal nostro amico qua com'è quindi pass sì ma siete no imbecilli solo per emergenza e non vedo altro ok allora innanzitutto sappi che mi devi pagare andiamo di qua vediamo cosa c'è qui uh tensione forse sono quelli pass però c'è la guardia mannaggia sopra uh 5 5 5 ok spero lo memorizzi 1 8 3 2 possiamo provare a chiamarlo no basta non lo voglio più vedere torna di qua levati dal telefono fammelo usare ci penso io chiami la guardia baboso raccontagli una barzelletta basta che lo tieni occupato ok vai 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 che ce la facciamo vai prendili ok ci siamo tutto risolto abbiamo i pass amico ma no 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 dobbiamo entrare si oddio cosa gli dico oh cavolo sono un riparatore qualsiasi cosa cablaggi elettrici è finto no è finto magari mi dice fammelo vedere lo sto cose segnando è un attrezzo la bevuta davvero se l'è bevuta si a niente se entriamo con un macete un oggetto che ci serve per riparare tutto perché è un'isola con gli animali che problemi ha adesso oh cavolo premi pulsante quando lampeggia per colpire ah queste le sbaglio guarda che le sbaglio no sto andando abbastanza bene lo stavo perdendo vai vai no si ma adesso diventano abbastanza veloci siamo calmi ancora cos'è ahah ho guadagnato un trofeo perché la prima volta che ho giocato ho pensato di non averne azzeccato una ah lei non lo sa esatto no adesso vi dico no allora controlliamo bene eh mia cara si cioè li folgora altro che tener lontani i teenager il tuo amico ti risponde di qua non vedo niente attenzione sembra spento non mi fido molto che stronzo col cavolo aspetta 10.000 volte spero ma perché devo toccarlo io scusa recinzione no tu me lo dici se no non vado lei ok rischio io dai ci provo al massimo faccio game over ok piano 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 ok siamo vivi cioè non eri neanche sicuro me l'hai fatto fare per che cosa ui idilofosauri che ricordi non diciamo cagate è perfettamente è perfettamente uno uno zoo ha l'enorma in tutto e per tutto no sarà un pollo tranquillo mi vediamo bene attenzione che minchie non lo conosco c'è una galleria ok ragazzi direi visto che mi ha fatto un salvataggio che per questo episodio è tutto stop qui e ci vediamo nella prossima parte bye bye